Buongiorno e ben ritrovati ad Occhio ai Giornali, è l'edizione di questo mercoledì 23 ottobre come sempre per cominciare il Cenno al Santo del Giorno. Si celebra oggi San Giovanni da Capestrano, religioso dell'ordine dei frati minori osservanti vissuto tra il XIV e il XV secolo, fu proclamato santo nel 1690. Oggi il sole sorgerà alle 7.39, tramonto previsto per le 18.11 e adesso il tempo che farà. La grafica indica una novolosità diffusa e persistente per le intere prossime 24 ore, ma in questo caso si assisterà anche a precipitazioni che caratterizzeranno in pratica l'intero pomeriggio e anche la serata. Quanto alle temperature, si registra una lieve diminuzione nei valori massimi. Ed eccoci alle notizie che vengono pubblicate più diffusamente questa mattina dai quotidiani a dominare la sentenza che è stata pronunciata ieri riguardo all'omicidio di Anastasia, la giovane mamma ucraina uccisa. Il 23 novembre del 2022 titola il resto del Carlino uccise Anastasia con 29 coltellate, condannato all'ergastolo del marito. Lui crolla a terra dopo il verdetto. Nessuno sconto, neanche le attenuanti generiche per l'egiziano Mustafa Alashri, 43 anni. I giudici gli tolgono la potestà genitoriale. Il figlio della coppia ora vive in Ucraina con i nonni, riferisce ancora il quotidiano bolognese che dà conto dell'atteggiamento con il quale lo stesso Alashri ha recepito la condanna e crollato a terra prima in corte d'assise e poi nell'atrio della tribunale sorretto dalle guardie carcerarie alla lettura della sentenza, dunque reazione scomposta, quella dell'uomo che si è visto riconoscere l'aggravante di aver ammazzato la donna che aveva sposato e di averlo fatto nel contesto di maltrattamenti familiari. Secondo la corte d'assise che si è pronunciata ieri dopo circa cinque ore di camera di consiglio, riferisce ancora il resto del Carlino. Alashri è colpevole anche per non aver adempiuto in precedenza, all'obbligo di mantenimento e per aver occultato il cadavere di Anastasia infilandolo in un trolley che poi fu caricato come noto nel furgone in dotazione all'uomo che lo disperse poi nelle campagne fanesi. Il fatto che non siano state riconosciute le attenuanti e la parere del difensore di Alashri Giordano lascia perplessi, in particolare la difesa aveva puntato sulla legittima difesa in subordine sull'ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa di tutt'altro tenore, le reazioni degli avvocati, dei familiari della donna, una sentenza che onora la vittima, afferma in particolare Giuseppe Giangrande Difesa che racconta come il figlio della coppia sia stato adottato dai nonni materni e ora vive con loro in Ucraina. Il bambino sta bene e vive una vita felice con una propria regolarità, afferma ancora l'avvocato Giangrande della sentenza pronunciata ieri in tribunale a Pesaro. Si occupa anche il Corriere Adriatico che ripercorre in una tabella le vicende della tragedia. Il 13 novembre del 2022 Anastasia venne uccisa con 29 coltellate dal marito Amrallah, Mustafa Alashli, fermato alle 23 per omicidio volontario, aggravato l'omicidio. Era stato compiuto alle 9 di quella domenica. Mustafa Alashli viene rinviato a giudizio per il femminicidio e questo avviene il 15 settembre del 2023. All'inizio del 2024, il 17 gennaio, il via al processo davanti alla Corte d'Assise di Pesaro. Il 18 settembre la richiesta del pubblico Ministero della Condanna all'Ergastolo. Il 15 ottobre scorso la difesa che invoca la soluzione dall'accusa di omicidio per eccesso colposo di legittima difesa, mentre il 22 novembre, una giornata di ieri, si arriva a sentenza. Disposto anche un risarcimento di 300 mila euro per il figlio di 4 anni di Fiesa che ricorrerà comunque in appello. Un crimine brutale, la città è rimasta scossa, è quanto afferma a margine della sentenza il sindaco Ser Filippi che rileva come la brutalità di questo crimine abbia scosso profondamente appunto la comunità cittadina. I nostri pensieri vanno in particolare al figlio della coppia, aggiunge il primo cittadino, commenta la sentenza anche l'ex assessora alle pari opportunità ed ora consigliera comunale del PD Cucchiarini che rileva come la giustizia, come giusto che sia, abbia fatto il suo corso una decisione che deve essere rispettata e per la quale, aggiunge la Cucchiarini, sento di esprimere soddisfazione per i tempi brevi con cui è stata emessa. Venendo invece ad un'altra vicenda tragica, quella dell'uccisione di Ana Cristina, la donna brasiliana assassinata dal marito a Montemaggiore al Metauro, il Corriere Adriatico, dà conto questa mattina della contesa che si starebbe sviluppando intorno alla custodia dei tre figli della stessa Ana e del marito Ezio di Levrano in carcere per l'omicidio della donna. La famiglia brasiliana rivendica la custodia dei tre ragazzi, ma la sorella adottiva non ha diritto ad avanzare questa richiesta, la titolare sarebbe la mamma, 73enne, di Ana, che però non può raggiungere l'Italia per motivi di salute. Della vicenda continua ad occuparsi l'avvocata Renata Bueno, che è anche parlamentare, che rileva come la mamma della vittima e la sorella adottiva cerchino di parlare con i loro nipoti, finora senza successo, minori ospitati in una comunità protetta in un luogo segreto, riferisce ancora il Corriere Adriatico. I tre hanno rispettivamente 6, 12 e 14 anni e hanno assistito all'omicidio della mamma. Sul resto del Carlino, invece, restando in tema, le indagini e gli accertamenti seguiti al tentativo di violenza sessuale nei confronti di una donna in pieno centro a Pesaro, la violenza sessuale in centro inchiodato dalle telecamere, il film dell'orrore del bengalese, le immagini fornite dalla polizia locale ai carabinieri mostrano l'aggressione del trentenne con il coltello, costringe la vittima, una peruviana di 49 anni, a seguirlo dietro al chiosco. Domani l'interrogatorio dell'uomo, un trentenne che appunto sarà sentito nel carcere di Villa Fastici, come riporta ancora il resto del Carlino, dove è rinchiuso dalla mattinata di lunedì. La convalida dell'arresto è prevista infatti per domani. Le immagini della videosorveglianza hanno dunque consentito agli inquirenti di ricostruire ancora più esattamente quanto avvenuto quel lunedì mattina di buonissima ora in piazzale Matteotti, con il bengalese che avrebbe appunto minacciato con un coltello e poi tentato di abusare della peruviana di 49 anni. Sembra che il bengalese possa essersi procurato nel ristorante dove aveva lavorato fino a tarda sera come aiutante di cucina l'arma, anche se nega che il coltello fosse suo. E intanto intorno a questo episodio munta la polemica politica con Fratelli d'Italia e Lega che chiedono al Consiglio Comunale di riunirsi in seduta monografica sul tema della sicurezza e di adottare anche provvedimenti urgenti, in particolare aumentare la vigilanza nelle zone pericolose della città. Cambiamo argomento venendo a quelli che vengono trattati più ampiamente nelle pagine fanesi, cominciando dall'arresto del Carlino e da quanto sta avvenendo nella chiesa di Santa Maria Nuova. Piove dentro Santa Maria Nuova, trasferimento del Perugino a rischio. La chiesa monumentale di Via De Tonsi, si è interessata da pesanti infiltrazioni, rileva il quotidiano bolognese, è stata transennata un'area centrale. A gennaio dovrebbe esservi collocata la pala di Durante per la quale il Comune ha stanziato 100.000 euro. Con 100.000 euro appunto si finanzia la ricollocazione all'interno di Santa Maria Nuova della pala, che è stata al centro di una mostra andata avanti per mesi. Parlano il Conte Bracci, che parla della necessità di un urgente intervento sul tetto. Anche l'ex vice sindaco fanesi, definendo Santa Maria Nuova una seconda cattedrale, invita l'amministrazione comunale a mettere mano al problema in tempi rapidi. Non ci sono neppure impedimenti economici, visto che si potrà contare su un avanzo di amministrazione importante, argomenta ancora Fanesi. Il fenomeno delle infiltrazioni d'acqua e della vera e propria pioggia all'interno si è accentuato nel corso dell'ultimo weekend. L'area più interessata è stata transennata, ma anche altre parti della chiesa, riporta ancora il resto del Carlino, sono interessate dal fenomeno. Sempre sul quotidiano bolognese, anche la protesta contro l'iniziativa di Iliad di installare un'antenna 5G al complesso Donorioni, esattamente al campo sportivo Don Gentili. Era scattata nei giorni scorsi una raccolta di firme da parte del comitato che si è costituito, scusate, espressamente allo scopo di contrastare l'insediamento dell'antenna. Antenna al campo sportivo Don Bosco, 500 le firme per dire no. Questo è il traguardo raggiunto dal comitato che consegnerà le firme al sindaco Serfilippi venerdì mattina in Consiglio Comunale. Va avanti dunque la mobilitazione di residenti e anche più articolatamente dei cittadini fanesi che dicono no alla moltiplicazione delle antenne sul territorio. della questione si sta occupando l'amministrazione comunale che pure però viene contestata dal comitato che avrebbe notato un disinteresse di fondo, additato anche il silenzio dell'ente ecclesiastico proprietario dell'area su cui appunto insiste il progetto di Iliad. Iliad, amministrazione comunale impegnata però nel frattempo ad individuare un sito alternativo da sottoporre ad Iliad che ha precedentemente rifiutato il trasferimento dell'impianto allo stadio Mancini. Parlano invece FIAB Forbici e l'ex assessora Tonelli riguardo alla iniziativa già annunciata dall'amministrazione comunale nel contesto dell'affidamento della redazione del nuovo piano urbano del traffico di eliminare i restringimenti su Via Trave. Via Trave dietro fronte sbagliato affermano appunto FIAB Forbici e Tonelli che criticano la decisione dell'amministrazione comunale. FIAB Forbici con i suoi esponenti si dice interdetta sulla scelta del sindaco che avviene proprio ora che i cittadini hanno capito come funzionano appunto gli accorgimenti che sono stati adottati dall'amministrazione seria all'epoca in cui figurava come assessora Tonelli nella zona. La stessa Tonelli si sofferma poi sulla decisione affermando come sia un errore madornale eliminare quegli restringimenti. Quanto invece a FIAB Forbici si concentra anche sull'affidamento di questo incarico per la redazione del piano urbano del traffico. C'era già un piano urbano della mobilità, additata anche la cifra che è stata stanziata per realizzare il nuovo piano, 125 mila euro. Per quel che riguarda invece la politica, le precisazioni che arrivano da Cesare Magalotti, consigliere comunale del PD che in uno sfogo arresto del Carlino aveva manifestato tutta la sua insofferenza verso la politica. Continuerò l'impegno vicino ai democratici, sostiene lo stesso Magalotti che aveva anche rinunciato a partecipare alle ultime due sedute del Consiglio Comunale. Il consigliere comunale, anche primario della Bresta Unit, ribadisce la sua battaglia. Al primo posto c'è la salute. Con il centro-sinistra aggiunge, condivido la critica alla gestione della sanità marchigiana. Magalotti che afferma di essere stato un po' ingenuo in quella intervista sfogo e sottolinea la volontà di insistere in questa battaglia per una sanità migliore. E a proposito di sanità, rilancia l'allarme pediatri, la consigliera regionale dei 5 Stelle, Ruggeri, la situazione a Fano, città delle bambine e dei bambini. Si sta rivelando sempre più critica, tra due mesi lascerà l'incarico anche la dottoressa Adami. Il caso è stato sollevato in regione. Previsti 11 medici a Fano. Ne restano soltanto 5. Rileva la stessa Ruggeri. Quanto invece al Corriere Adriatico, sempre dalle pagine fanesi, la cronaca con l'incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri nei pressi dell'ospedale Santa Croce. Scontro tra auto e bici. ciclista soccorsa dalla 118. L'urto proprio davanti al Santa Croce, ma il paradosso è che poi la donna sia stata trasferita al pronto soccorso del San Salvatore di Pesaro. A bordo della sua bici è stata centrata da un'auto all'incrocio tra Via Veneto e Via de Borgarucci, sempre sul Corriere Adriatico. Anche l'episodio che è avvenuto a Fano perde il portafogli, la cameriera glielo restituisce. Il protagonista della vicenda, una turista proveniente dalla Francia, di origini francesi, che si era recato a pranzare alla bella Napoli. Inavvertitamente si era lasciato sfilare a terra il portafoglio che conteneva 2000 euro in contanti e carte di credito. Una cameriera del ristorante ha individuato il portafoglio, si apprestava a recarsi al comando dei vicini urbani quando è tornato il turista e il portafoglio gli è stato restituito. Lieto fine dunque per la vicenda. Ancora dal Corriere Adriatico e venendo ad altro capitolo, quello degli eventi, lo spettacolo Il Piccolo Principe che verrà portato in scena domani e dopodomani al Politeama, un musical ispirato all'opera di Antoine de Saint-Exupery. Lo spettacolo coinvolge appunto giovani artisti fanesi a partire dal musicista Damiano Fabri che ha sviluppato l'intero repertorio. Al pianoforte le musiche verranno eseguite da Riccardo Maria Ricci, si legge all'interno dell'articolo regia curata da Tommaso Ruscitti e Tommaso Rizzitelli. L'iniziativa favorita dall'associazione ex Concordia Felicitas ricorda ancora il Corriere Adriatico. Occupiamoci adesso dei temi trattati all'interno delle pagine pesaresi dei due quotidiani, dal resto del Carlino in particolare per quello che riguarda la cronaca giudiziaria, le indagini sui cosiddetti affidi facili. Santini, il PC non c'è, ma i dati sì, recuperata la scatola nera. Di che cosa si tratta? Dei dati che erano contenuti nel PC, dotazione a Massimiliano Santini, il creativo assoldato dalla giunta Ricci per seguire gli eventi. L'uomo aveva dichiarato di aver smarrito il PC, ma grazie al CED del comune i dati contenuti all'interno della portatile verranno recuperati. Sempre restando in ambito comunale anche l'annuncio che arriva dal sindaco Biancani dell'avvio della procedura per l'assunzione del nuovo segretario. La cronaca invece ci porta ad un aggiornamento delle condizioni di Roberto De Julis, l'ex portiere del Vispesaro colpito da un grave malore. De Julis, la solidarietà della città, devi parare rigore più difficile, questo è il virgolettato che riassume il pensiero in particolare dei tifosi. L'ex portiere della Vis in coma farmacologico ad Ancuna dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito. I messaggi dei tifosi, di mister Arrigoni, allenatore di quella Vis, era uno dei giocatori che sentivo con la sua grinta. Può farcela, siamo vicini a lui e alla famiglia, lo aspettiamo presto, così si è espresso Arrigoni. Mentre per quello che riguarda ancora la cronaca giudiziaria sul resto del Carlino, la sentenza di assoluzione confermata dalla Corte d'Appello riguardo al caso delle torri del porto, arriva così il via libera alla costruzione degli edifici, si è chiusa una vicenda iniziata quattro anni fa. Consegneremo gli appartamenti entro il primo settembre 2026, così chi ha promosso il progetto, confermata infatti ieri l'assoluzione dei tre imputati accusati di abuso edilizio. Quanto invece al Corriere Adriatico e sempre dalle pagine dedicate a Pesaro, in primo piano le telecamere che verranno installate agli accessi della ZTL, ne sono già presenti ma la mappa verrà in qualche modo completata. Ora arrivano otto spy cam ad altissima tecnologia per un centro storico blindato, titolare la Corriere. Video sorveglianza attiva in tutti i varchi che danno accesso al cuore della città. Aspes dirige le operazioni, dal 22 novembre impossibile suggire ai controlli. Si parte dall'aggiornamento dei vecchi dispositivi, afferma il presidente di Aspes Pieri, i nuovi varchi elettronici saranno collocati, come individua la tabella, esattamente in via della Ginevra, via Curiel, piazzale Lazzarini, piazzale Albani, via Massimi, via Mammolabella, via Branca e via Rossini. Intanto ancora disagi a Pesaro nel collegamento con Fano per la frana che ha ostruito il cavalca ferrovia, riaperto in una sola direzione, non c'è ancora però il semaforo. La circolazione va avanti a senso unico, informa il Corriere. In corso i rilievi dei tecnici per stabilire l'entità della frana e poi disporre gli interventi necessari. Intanto di fronte ai danni provocati dal maltempo, il consigliere comunale dei Cinque Stelle, lui, gli chiede nuove strategie, mentre il presidente del Consiglio di Quartiere, Valdinoci, ironizza sulla strategia di ripulitura delle caditoie che è stata imbastita dall'amministrazione comunale. Si parla anche di discariche sul Corriere Adriatico e dell'ipotesi di ampliare quelle esistenti. Ai cittadini poi lo spieghi Aguzzi, polemizza il presidente della provincia Paolini, che anche presidente di Ata in questa veste sottolinea come la regione pensi al termo valorizzatore. Va bene, ma ci vogliono anni per farlo. Con l'ambito unico, lamenta ancora Paolini, Anconasceglie e le province devono adeguarsi. Il riferimento ad Aguzzi è naturalmente a quanto affermato dall'attuale assessore regionale all'ambiente della regione. La cronaca invece è quella relativa alle intemperanze di un giovane della nuova Guinea. Vuole il visto a tutti i costi, devasta un ufficio della questura. Aggrediti anche i poliziotti. Il giovane riteneva di potersela sbrigare in poco tempo all'interno della questura per ottenere appunto i documenti. Non è stato così. Questo ha suscitato la sua reazione scomposta. Ha aggredito anche i poliziotti. Celebrato il processo per direttissima la difesa dell'uomo. Ha patteggiato la pena ad otto mesi. Non è stata prevista alla sospensione perché il giovane non è nuovo ad intemperanze di questo tipo. La sanità poi e la precisazione che arriva dal primario di chirurgia della San Salvatore Patriti dirò no all'incarico. Afferma Patriti che era stato investito della nomina all'ospedale di Perugia ma il primario di chirurgia alloggiando la sanità provinciale e l'ospedale dice nelle Marche Stobene. All'interno dell'articolo Patriti che formalizza così la rinuncia al nuovo incarico a Perugia e la volontà di permanere in zona sottolinea come sia qui assistito da un'equipe di professionisti con cui sta lavorando benissimo. Venendo invece agli argomenti dedicati all'entroterra in primo piano sul Corriere Adriatico il tema degli eventi e in particolare la Fiera Nazionale del Tartufo di Acqualagna. Promozione e sviluppo Acqualagna ospiterà oltre 50 eventi. La Fiera Nazionale è presentata a Roma dal sindaco Reazzi. Un patto con l'olio dop di Cartoceto. Venendo invece alla pagina dedicata a Durbino si parla ancora di rifiuti e in particolare dell'inceneratore che la Regione avrebbe in programma di realizzare. Protesta la consigliera regionale dei Cinque Stelle Ruggeri ma sul piede di guerra anche il comitato che si è battuto recentemente con successo contro la discarica di riceci. Sul resto del Carlino invece spazio ad un aggiornamento riguardo alle ricerche di Riccardo. Il giovane di furlo di Acqualagna scompasso ormai da una decina di giorni ancora un avvistamento ma Riccardo non c'è. Questo è il titolo. Proseguono le ricerche del 19enne di Acqualagna svanito il 13 ottobre scorso. Questa sera il caso andrà su chi l'ha visto. Intanto riguardo all'ultimo acquisto su Amazon fatto dal giovane smentito che all'interno ci fosse una sim. Accertamenti sono in corso sull'ultimo avvistamento avvenuto a Perugia così come sugli altri arrivati da altre parti d'Italia. Purtroppo nessun riscontro oggettivo di questi avvistamenti. Né foto né video. La viabilità poi per concludere è la nuova strada tra Pergola ed Isola del piano. Cesano e Metauro vallate più vicine. L'intervalliva a scorrimento veloce inserita infatti nel piano infrastrutturale Marche 2032. Lavori entro il 2027. Quella prevista puntualizza il sindaco di San Lorenzo in campo dell'Onti. È una strada a scorrimento veloce che partirà dal confine fra San Lorenzo e Pergola e sbloccherà nella frazione fossempronese di Isola di Fano. Isola del piano ci correggiamo. E siamo così alla termine di questo appuntamento con occhio ai giornali. Come sempre grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.